Ciao ragazzi, un nuovo altro di turn 99 In questo gioco Donkey Kong Country Returns 3D Dopo che a precedenza abbiamo fatto l'inizio E vi ho spiegato il titolo Ora inizieremo con gli extra Inizieremo con la spiegazione dei mondi giocabili Inizieremo con il primo mondo La giungla Allora, la giungla è un posto abbastanza tranquillo Dove vediamo tante pietre, fontane, palmieri, cespugli, tanta erba Tanti alberi Capito? E' un mondo E' il mondo più facile di tutto il gioco Capito? Il mondo più facile di tutto il gioco Anche i livelli sono facilissimi Dove qui il boss che comatterete è brutto muso E lo strumento non lo so come si chiama E' un indiano, non so com'è E' brutto muso Il boss Mi piace il mondo 1 La giungla Chissà il secondo mondo come sarà C'è tanta erba Io non andrei in una giungla Ok, detto questo I livelli presenti in questo primo mondo nella giungla sono Giungla selvaggia Rame arrampicato Fronda pendente Sponda dorata Che è il livello segreto Chioma cannone Binario equatoriale E' il boss Colle brutto muso Che Dovete sconfiggere E' facile il boss Io l'ho sconfitto Veloce Capito? E poi c'è un livello segreto Dopo aver preso tutte le lettere Poi c'è il bazar cranky E tratto trema tutto Capito ragazzi? Ok, io vi saluto Abbiamo accessito anche il primo mondo Vi aspetto nella prossima recensione Con la spiegazione del secondo mondo Capito? Un ciao Nel video di turn 99 Seguite in sempre nella video recensione Ciao ragazzi Alla prossima Ciao